Ragazzi buongiorno e bentornati sul canale del coach. Oggi vediamo un esercizio fantastico, super, per andare a migliorare la funzionalità e la forza delle nostre spalle. Sto parlando dell'esercizio che prende il nome di halo, un esercizio poco utilizzato che possiamo andare a mettere in campo nei nostri workout per andare a sollecitare ed allenare la spalla. Questo halo ci permette di dare forza, ci permette di dare mobilità e controllo alle nostre spalle su diversi piani di lavoro. L'esercizio lo possiamo fare tante volte, lo si vede fare con il kettlebell, ma lo si può fare con un disco, lo si può fare con un manubrio e adesso vi faccio vedere come si fa. È semplicissimo, permette anche nella sua esecuzione comunque un ottimo lavoro anche sul core perché ovviamente quando eseguiremo questo gesto il core stabilizza e quindi torna veramente come esercizio utilissimo sia nella fase di riscaldamento per le spalle ma anche come riscaldamento generale. Quindi potete metterlo anche all'inizio dei vostri workout come variante per andare a scaldare e dare comunque preparare queste articolazioni a quello che farete successivamente. Si parte con il carico frontalmente a voi all'altezza del petto, i gomiti sono bassi. Da questa posizione l'idea è far ruotare il manubrio o il disco o il kettlebell intorno al vostro capo in un senso e poi anche nell'altro senso. Quindi da questa posizione sollevo e vengo giù, ok? Quindi sollevo, passo dietro, si alza l'altro gomito, ruoto e torno giù con i gomiti bassi, ok? Questo è il nostro movimento. Ovviamente sembra un esercizio semplice ma provate a farlo. Possiamo farlo con delle ripetizioni medio-alte o anche a tempo. Quindi posso fare 60 secondi di halo da una parte, 60 secondi di halo dall'altra parte per due o tre serie. Vi assicuro che questo esercizio può dare una grande funzionalità alla vostra spalla, dare mobilità ma soprattutto preparare anche al workout che andrete a fare. Quindi provate a farlo, è veramente un gran bello esercizio e niente, come sempre grazie per l'attenzione, spolliciata per il coach, continuate a seguirmi e ci si vede alla prossima. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito www.umbertomiletto.com Ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito! Grazie a tutti!